Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Siamo alla lezione 148, ancora vivendo e sperimentando il quarto ripasso. Iniziamo come sempre ricordandoci del nostro respiro, accorgendoci di lui, accorgendoci dell'aria che entra e l'aria che esce, senza fretta. E respirando, insieme all'aria, facciamo entrare l'idea centrale e preparatoria di questo ripasso. La mia mente contiene solo ciò che penso con Dio. La mia mente contiene solo ciò che penso con Dio. Libera la mente e lascia che venga occupata solo da quest'idea. La mia mente contiene solo ciò che penso con Dio. E adesso da questo spazio, ricco di senso ma vuoto di pensieri, Ti leggo le idee di ripasso di oggi. Idea numero 1 Se mi difendo, vengo attaccato. Idea numero 2 La malattia è una difesa contro la verità. Senza fretta. Non c'è fretta. Stai usando il tempo per lo scopo per cui è stato creato. Lascia che il dono che è per te ti arrivi. Lascia che queste parole si schiudano e te lo mostrino. Non c'è fretta. La mia mente contiene solo ciò che penso con Dio. Che sta usando? La mia mente contiene solo ciò che penso con Dio.